L'ultimo Consiglio Comunale di Castrovillari ha anche affrontato tre interrogazioni delle civiche. La prima è illustrata con una serie di riferimenti dalla consigliera Guaragna e ha riguardato il servizio di supporto tecnico operativo informatico all'Ufficio Idrico del Comune. Ha risposto l'assessore Maria Silella, non raccogliendo però la soddisfazione della minoranza. La seconda è inerente il programma Transumanze Culturali tra due parchi, ammesso a finanziamento dal MIBACT, sempre attraverso la consigliera Guaragna, è stata posta dalle civiche per aver chiarimenti circa l'incarico dell'ingegnere del Comune Mari nell'organismo tecnico del RUP. Il sindaco rispondendo ha precisato che tale figura di supporto dell'ente viene offerta senza alcuna spesa, fermo restando che l'apporto è previsto anche nella convenzione che articola lo strumento. La risposta però è stata ritenuta insoddisfacente dalla stessa esponente. La terza presentata dal consigliere Ferdinando Laghi per avere informazioni certe sulla chiusura del canile sanitario di Castrovillari. All'articolo 2, sempre di questo decreto, i canili sanitari per la provincia di Cosenza si dice che devono essere ubicati in zone baricentriche al territorio della provincia che dovranno servire. dovranno essere facilmente raggiungibili con la viabilità ordinaria. Ovviamente queste sono caratteristiche proprie del canile sanitario di Castrovillari, baricentrico e facilmente raggiungibile. Se non che l'ASP di Cosenza, con delibera del 9 febbraio 2017, individua come canile dell'area sud della provincia di Cosenza quello della città di Cosenza. E come canile dell'area nord il canile sanitario di Saracena, piccolo particolare. Canili sanitari a Saracena non ce ne sono mentre c'è a Castrovillari. Mentre quello di Castrovillari viene ignorato, Castrovillari che ha una densità di popolazione molto superiore, una struttura più grande, già esistente e collaudata, una migliore viabilità di accesso, una posizione geografica baricentrica che è nel settore da lungo tempo punto di riferimento del territorio che viene in questo modo penalizzato come Castrovillari e come territorio complessivamente. In maniera grave e assolutamente francamente incomprensibile preferendo al canile di Castrovillari un canile non esistente. Ma non solo questo. Il direttore generale dell'ASP nel mese di luglio ha inviato una nota ai comuni dell'ASP in cui si comunica la chiusura di alcuni canili sanitari, il mantenimento di altri e altri ancora vengono relegati alle sole emergenze tra cui il canile sanitario di Castrovillari. E quindi in questa interrogazione si chiede, noi vorremmo sapere, quali sono le iniziative già adottate da codesta amministrazione per difendere il canile sanitario di Castrovillari, a cosa hanno fin qui portato e quali sono quelle azioni che si intende porre in essere nell'immediato futuro. Grazie. A tal motivo, prima di entrare nel dettaglio delle cose che si stanno facendo e che si sono fatte, mi preme sottolineare che l'atteggiamento di questa amministrazione nel voler sottolineare, anche attraverso i mezzi di stampa, che il canile rifugio, quindi il canile oasi, non verrà chiuso. Questa amministrazione è talmente attenta alle problematiche di quello che succede e che già nel 2013 l'allora assessore Angelo Loiacono scriveva alla regione Calabria e all'ASP una nota nella quale si mettevano in evidenza quelle che erano già allora le discrepanze di legge, cioè questi famosi 500 metri di distanza che devono intercorrere tra il canile sanitario e il canile rifugio e in maniera lungimirante già nel 2013 proprio in accordo a quello che diceva il consigliere Laghi cioè la baricentricità di Castrovilla rispetto al territorio già nel 2013 si mettevano in evidenza queste difficoltà. Torniamo ai giorni nostri. Il 9 febbraio c'era la delibera in questione da parte dell'ASP che avvisava delle problematiche per i canili sanitari il 16 febbraio scrivevo alla regione Calabria al Dipartimento della Salute e delle Politiche Sanitarie al Direttore Generale dell'ASP chiedevo se l'individuazione della località dove far sorgere i canili sanitari previsti nella provincia di Cosenza e se sia stata convocata la conferenza dei sindaci prevista al comma 1 del citato articolo 5 condizione necessaria per scegliere il luogo dove localizzare il nuovo canino questa conferenza dai nostri atti non risulta mai che sia stata convocata quindi il fatto che i canini non siano a norma è un dato di fatti è un dato di legge che dobbiamo rispettare però chiaramente non si può pensare dall'oggi al domani di chiudere quelle realtà che non si possono chiamare canini sanitari in accordo alla legge ma che comunque servono al territorio e Grazie a tutti